Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Immaginate una crociera extra lusso sette giorni sette notti ai caraibi. Che immagini evoca questa idea? Gioia, entusiasmo, frenesia? No? Pensate che possa evocare addirittura pensieri bui, depressione, malinconia? In realtà sì, per David Foster Wallace, autore di culto americano, che ha scritto questa bellissima reportage narrativa una cosa divertente che non farò mai più, in realtà avete ragione voi, avete ragione voi scettici che non credete alle promesse di felicità dei dépliants, la sfrenata e presunta euforia dei croceristi. Doveva essere appunto per il nostro autore uno spunto per un articolo commissionatogli dalla celebre rivista americana Harper's, per cui si imbarca in questa nave extra lusso, crociera sette notti ai caraibi. Dall'articolo passerà al reportage narrativo più compiuto e scrivendo questo libro, una cosa divertente che non farò mai più, che diventa una satira corrosiva dell'industria del divertimento americano. E su quello che è l'unico vero inespresso desiderio del crocerista tipo sfuggire anche solo per una settimana alla sua idea ossessiva, ineruttabile del decadimento fisico e della morte. E allora una vacanza è una tregua dalle cose sgradevoli e poiché la coscienza della morte e della decadenza è sgradevole, può sembrare strano che la più sfrenata fantasia americana in fatto di vacanze preveda che si venga schiaffati in mezzo a una gigantesca e primordiale macchina di morte e decadenza. Eppure nella crociera extra lusso sette notti ai caraibi veniamo coinvolti con abilità proprio nella costruzione di svariate fantasie di trionfo sulla morte e sulla decadenza. Un modo di mettere in atto questo trionfo è la disciplina del miglioramento di se stessi. dieta, ginnastica, integratori ipervitaminici, chirurgia cosmetica, seminari sul time management e tutto il resto. I giochi, le feste, l'allegria, le canzoni, l'adrenalina, l'eccitazione, l'iperstimolazione ti esaltano e ti fanno sentire vivo. E allora via da una palestra all'altra, da un bar all'altro, da un ristorante all'altro, da un casino all'altro. Tutto per sfuggire a quello che cova sempre dentro ciascuno di noi, questa idea dell'ineluttabilità, della decadenza, del decadimento fisico e della morte. Mi viene in mente che proprio in questi giorni un mio carissimo, stimatissimo collega di filosofia, sta svolgendo con i suoi luni un percorso proprio su questo tema, il tema della morte, il tema dell'idea del nulla, della difficoltà ad accettare questa idea del nulla, il senso della vita. Penso che un libro del genere potrà sicuramente essergli utile. Io lo consiglio e lo consiglio a tutti voi. David, Foster, Wallace, una cosa divertente che non farò mai più. E mi raccomando seguiteci sempre sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie a tutti.